Musica Bene, buongiorno dottor Cusenza, bentrovato. Buongiorno a voi. Allora, io intanto devo ringraziarti pubblicamente perché quando vieni in questi studi lo fai mettendo un attimo da parte i tuoi impegni professionali e donandoci la tua competenza, la tua esperienza e quindi ti siamo molto grati e ti perdoniamo per il trambusto che porti un po' nei nostri studi. Siamo ritornati un po' tutti quanti dalle vacanze, le vacanze sono quel periodo in cui ovviamente ci rilassiamo un po' e forse a volte ci rilassiamo anche sul versante dell'alimentazione. Come possiamo fare dottore per ritornare sulla retta via? Intanto, buongiorno a tutti. Le vacanze fondamentalmente si chiamano vacanze proprio perché si stacca dalla vita quotidiana e dalla routine. Quindi anche a livello alimentare di cibo, di bevande, di alcolici cambia tutto. Si va quasi, cioè è paradossale perché se prendo come esempio il calcio che inizia la preparazione e quindi vanno a rispettare al massimo le regole, il cittadino comune va a disregolare la sua vita, proprio fa il contrario. Però è anche giusto rilassarsi un paio di settimane e fare degli stravizi. Poi intanto si ritorna alla quotidianità, si esce di meno, si mangia di meno, si beve di meno e si tornano adesso, sì, la maggior parte delle persone torna anche a fare attività sportiva. Quindi diciamo che si rientra alla normalità quotidianità. Quindi quel chile, quel chile e mezzo preso si toglie tranquillamente. Bene, che cosa ci consigli anche in ottica stagionale? Noi ci stiamo avvicinando all'autunno, quale consigli ti senti di darci in questa fase? Che è una fase anche un po' delicata perché poi con il cambio di stagione potrebbero arrivare anche i primi raffreddori, i primi malanni. Quali sono le dritte che ti senti di consegnarci oggi? Allora, proprio perché c'è un cambio di stagione e quindi ci sarà anche probabilmente, tra un po' speriamo, cambi di temperature, il corpo andrà incontro a delle patologie stagionali, quali raffreddori, febbre e quant'altro. La cosa che posso consigliare è fare alti carichi di vitamina C, dalle verdure, dalla frutta, ma anche come integratori. Se ne vendono anche in compresse da un grammo e anche alti carichi di vitamina D, perché la vitamina D, non dimentichiamolo, non è solo quella vitamina che va a fissare il calcio nelle ossa, ma altre 3-4 mila azioni, tra cui il benessere fisico, mentale, psicofisico, aumenta le difese immunitarie, quindi ha tantissime funzioni. Quindi anche assumere un integratore di vitamina D non è sbagliato. Se poi io vedo negli ambulatori che quando chiedo alla vitamina D è sempre bassa, perché nella mente comune, nell'uso comune, vado al mare due settimane e sono coperte per 365 giorni, ma così non è. La vitamina D è una vitamina molto importante, da integrare. Non a caso gli americani, nella loro follia alimentare, aggiungono la vitamina D anche nel latte. Ce lo aggiungono quasi ovunque. Ci sono molti prodotti arricchiti di vitamina D. Non sbagliano, certe poi sbagliano sotto altri punti di vista. Quindi tornare alla regolarità è un consiglio. Cosa importante, nei campi di stagione, chi soffre di colon irritabile, il problema acuisce, perché i campi di temperatura vanno ad agire sulla flora batterica intestinale, creando degli scompensi, gonfiori, dolori, stitichezze, quindi si ha un po' di problemi. Quindi bisogna essere precisi nel protocollo alimentare di chi soffre di colon irritabile, perché proprio nei campi di stagione si acuisce il problema. Possono essere utili delle tisane, per esempio, per chi soffre a questo tipo di problematica? Per quanto riguarda il colon irritabile, no. Per la colite, per il colon irritabile, a parte la diagnosi ospedaliera, c'è da applicare un protocollo chiamato FODMAP. C'è un'alimentazione a basso carico di FODMAP, che è un acronimo di fermentable oligodisaccardi, monosaccardi e polioli. Quindi eliminare dall'alimentazione tutti questi zuccheri che tendono a fermentare e a dare gonfiore, stitichezze, diarrea, malessere, stanchezza, sfogliatezza. Perché mi ricollego forse a qualcosa già detto in passato, il colon irritabile è un colon dove c'è dell'infiammazione, è irritato e si manifesta un fenomeno chiamato l'Aki-Gatte, intestino gocciolante. Quindi alcune sostanze, alcuni zuccheri, alcuni patogeni, virus, batteri, funghi, oltrepassano il lume intestinale e vanno a colonizzare zone che non dovrebbero essere colonizzate. Si osserva facilmente nelle donne un aumento di candidosi, di cistiti, anche nell'uomo dei cistiti, proprio perché questi patogeni colonizzano queste zone calde e umide. Ma in realtà non dovrebbe succedere perché il lume dell'intestino non dovrebbe essere oltrepassato. E quindi è un problema abbastanza diffuso, curabile, ma fatto da chi sa farlo. Non è la semplicità sana o sento spesso e vedo spesso, ho la diarrea, do la rifoximicina, quindi disinfettando l'antibiotico intestinale. Sì, passa per due settimane, ma poi il problema ritorna. Bisogna proprio cambiare lo stile di vita alimentare per spegnere questo problema, che poi è un problema emotivo, è un problema che parte dalla testa. Quindi stress, nervosismo, ansie vanno a finire tramite il nervo vago, dal cervello all'intestino, che è il nostro secondo cervello, ma secondo alcuni è il primo cervello e da lì poi nasce tutto. E sì, infatti lo abbiamo sempre detto durante i nostri appuntamenti, la salute è una dimensione che racchiude tutto il nostro essere, sia fisico che psicologico. Esattamente, prima di tutto psicologico, stress, ansie, si ripercuotono sul nostro corpo. Anche se noi crediamo che un'ansia, uno stress non faccia nulla, anche se facciamo fin di non pensarci, ma non è così, perché va a rifinire tutto sul corno. E io purtroppo, dopo il Covid, ho assistito a un aumento del 50-60% di questa finta patologia, perché poi non ti porta a nulla, ti fa stare male, ma non ti porta a nulla. Il gonfiore, diarrea, stitichezza, non si muore di questo. Però è un problema, è un disagio, perché sentire dire «Dottore, la mattina riesco a abbottonare i pantaloni, la sera non ci riesco», è un disagio per un uomo e per una donna, soprattutto per la donna. Bene, grazie dottore. Come sempre è prezioso il tuo apporto nel nostro programma. Quindi, dicevamo, a fronte del cambio di stagione che è ormai imminente, alti carichi di vitamina C e di vitamina D, ma anche una vita sana. Quindi non rinunciamo alla passeggiata quotidiana, non rinunciamo a gestire anche le nostre emozioni. Cercando di seguire la stagionalità, perché adesso con l'avvento dell'autunno aumenta la produzione di ortaggi, verdure, quindi c'è più scelta. Quindi cercando di seguire la stagionalità. È vero, è vero. L'autunno è una stagione ricca di frutti, tra virgolette, per cui avremo anche la possibilità di poterci sfiziare, tenendo, come dire, badando e curando la nostra salute. Bene, dottore. Anche oggi il tempo a nostra disposizione è volato, ed è sempre un piacere ritrovarti. Lo faremo anche martedì prossimo, con Paola Russo alla conduzione. Poi ci fermeremo per qualche settimana per dare spazio alle celebrazioni che ci prepareranno alla festa di San Pio, ma siamo certi che ritroveremo prestissimo il dottor Salvatore Cusenza e la rubrica La salute vi è mangiando. Per cui appuntamento martedì prossimo. Va bene, ci sarò. Grazie. Linea alla regia. Grazie.